Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Siamo a sabato 18 maggio, vi do il benvenuto al primo appuntamento con l'informazione di TV Imulise. L'informazione è che quest'oggi parte con la cronaca, cronaca che ci porta a Macchiacodena per un brutto incidente avvenuto in un vigneto. Giovanni Notte, un noto imprenditore di 70 anni, è morto schiacciato dal trattore che lui stesso stava guidando. C'era per noi Antonio Leone. Una scena straziante, quella presentatasi dinanzi agli occhi dei soccorritori giunti a Macchiacodena, località Caporio, poco dopo le 19 di ieri. Giovanni Notte, 70 anni, il prossimo ottobre, noto imprenditore di materiale edile, a bordo del suo trattore stava effettuando dei lavori di ripulitura in un vigneto di sua proprietà, quando per cause al vaglio delle forze dell'ordine il mezzo agricolo si è ribaltato. Un incidente fatale, l'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo che stava guidando. Inutili soccorsi giunti tempestivamente sul posto, vigili del fuoco da Isernia e sanitari del 118 che ne hanno soltanto potuto constatare il decesso. Quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi del caso. La notizia si è subito diffusa in paese sul luogo dell'incidente e poco dopo è iniziato un via vai di amici e parenti ancora increduli per la notizia. Giovanni Notte era molto conosciuto non solo a Macchiacodena ma nell'intera provincia di Isernia dove sono dislocate altre sedi della sua azienda. Lascia la moglie e quattro figli. In queste ore un'intera comunità è in lacrime per la morte di un padre di famiglia, gran lavoratore e benvoluto da tutti. Iniziamo ora la nostra rassegna stampa. Abbiamo aperto già i quotidiani online. Siamo sulla pagina di TV in Mulise che apre con questa notizia. Commissione per la parità e le pari opportunità. Eletta presidente Giussi Di Lalla. Eletti anche i due vicepresidenti, Benedetta De Lisi e Maria D'Apice. Sono onorata, ha dichiarato la neopresidente eletta, sono ancora più entusiasta di intraprendere questo percorso insieme ad un team di alto profilo, sia professionale che umano. Nel corso della seduta sono stati eletti, come abbiamo detto, anche i due vicepresidenti. Spostiamoci sul quotidiano del Mulise che apre con la notizia che avete appena sentito nel servizio, la tragedia nei campi. Imprenditore muore schiacciato dal trattore a Macchiacodena. E poi il Campobasso che dice addio a mister Pergolizzi, decisione consensuale. Altra notizia che riguarda invece la sanità, Vincenzo Viondelli e il nuovo primario del punto nascita di Termoli. Ancora le fiamme gialle che sequestrano 18 mila prodotti per l'igiene e denunciano 11 imprenditori. Andiamo avanti, siamo su Mulise oggi. Roberti conferma a Berchicci al vertice della GAM di Boiano. Il decreto del Presidente porta la data del 17 maggio e vede appunto la conferma al vertice dell'attuale amministratore unico Giulio Berchicci. Nel decreto del Presidente pubblicato sul sito della Regione è riportato che l'Assemblea dei Soci è convocata per l'esame del bilancio di esercizio il giorno 20 maggio 2024 alle 17. ritenuto di dover provvedere alla designazione dell'amministratore unico della gestione agroalimentare molisana della SRL. Andiamo avanti, ci spostiamo ora su Abruzzo, nuovo Abruzzo Molise, il DG di Arpa Molise Selvaggi nel Governo nazionale della Agenzia per la protezione ambientale, quindi nomina prestigiosa per Alberto Manfredi Selvaggi, direttore generale di Arpa Molise, alla vicepresidenza di Asso Arpa che riunisce le agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale. Siamo sulla home di Futuro Molise, Balneari, si punta a mappatura e diritto di prelazione, altri due emendamenti presentati dalla Lega. E poi Enrico Calamai, una vita per i diritti umani, sabato 25 maggio all'auditorium Arturo Giovannitti e Palazzo Exgil in via Milano. A Campobasso, ancora l'associazione Domenico Fratianni, presenta Domenico Fratianni i misteri di Paolo Saverio di Zinno. Passaggio veloce anche sulla nostra pagina Facebook, anche qui troverete la notizia che avete sentito nel servizio della morte dell'imprenditore, della tragedia accaduta ieri intorno alla 19 a Macchiagodena in località Caporio. Ma spostiamoci ora sui cartacei, apriamo la prima pagina di Primo Piano Molise, il titolo Roberti, bravi medici per migliorare la sanità. Soddisfatto per gli arrivi eccellenti al Santimotio, il governatore guarda oltre detta l'agenda al lavoro per riorganizzare i nosocomi di Sernia e Agnone. Al Cardarelli qualcosa non funziona, i primari, come i presidenti di regione, non sono a vita. A centropagina furto dei fondi destinati ai bimbi malati, studenti dal Corre d'Oro, i ragazzi del Giordano di Venafro hanno raccolto la somma sottratta dai ladri a casa dei genitori di Maria Nucci, adolescente scomparsa. Prematuramente le altre notizie in prima pagina, aggredita in centro, ragazzina finisce in ospedale e poi la commissione parità, lo abbiamo detto, Giussi Di Lalla eletta presidente. Ancora Galilei e l'intelligenza artificiale, gli esperti della Crusca in cattedra. Al Marconi e poi Frati Anni e i misteri di Zinno, opere in mostra al Circolo Sannitico, l'esposizione del compianto maestro dal 20 al 25 maggio. Ancora la tragedia nei campi, naturalmente, per la morte del settantenne a Macchia Godena. E poi dentro la notizia, volto storico della lotta per la GAM, la CGL ricorda Mariano Russo Sgomento a Boiano e poi centra tre numeri sulla ruota di Bari e vince più di 13 mila euro al gioco dell'otto. Andiamo all'interno di primo piano, acquisti eccellenti in corsia. Il governatore dice ci puntiamo per migliorare la sanità. Roberti però non minimizza il caso urologi, qualcosa al Cardarelli non funziona. Nessuno, a partire da me, è capo Vita Natural Durante. Ancora Ferrara, primario di chirurgia. Il DG di Santo ha pubblicato la delibera. E poi ieri la giornata contro l'omotrasfobia. I consiglieri 5 Stelle che chiedono alla giunta regionale un impegno concreto. C'è poi il punto, a firma di Vincenzo Musacchio. Il titolo col premierato, potere degli elettori pari a zero, a chi giova la riforma. Andiamo sulla pagina successiva. Dieci molisani in lizza per uno scranno al Parlamento europeo. Dall'uscente Patriciello che punta a tornare a Bruxelles con la Lega a Di Palma, dei 5 Stelle, Germano, ABS. Nell'articolo troverete appunto i nomi. E poi l'insediamento della nuova commissione regionale parità. Giussi Di Lalla, eletta presidente. Il commento, onorata ed entusiasta, daremo un supporto concreto. Siamo ora a pagina 5, quella dedicata a Campobasso. Il capoluogo, quindi la città inclusiva, è forte contro tutte le discriminazioni. Il messaggio della candidata sindaca del campo progressista alle vittime di omofobia e trasfobia. E poi cura del territorio e lotta alla marginalità sociale. Il manifesto di Boncristiano e Cancellario. Ancora incontro e passeggiata ecologica a Bosco Faiete con le guardie ecologiche. Poi i suoi due quattro zampe. Oggi interretta alle auto la zona murattiana. Andiamo avanti. Siamo a Isernia. Via ai lavori. Anzi, no, Mancini chiede lo stop su Via Giovanni XXIII. Il vicepresidente della SIS su tutte le furie per la sostituzione della pavimentazione in porfido con lo spolvero di quarzo. E poi si parla di alloggi popolari. Fabrizio in pressing per sbloccare le assegnazioni. Il consigliere di opposizione interroga il sindaco. Novità attese in settimana. Siamo ora sulla pagina di Venafro. Il consiglio torna a riunirsi. In agenda anche il bilancio. Spazio pure alle emozioni delle opposizioni. Bianchi spinge sulla proposta relativa al centro storico. E poi il lungo revival sui protettori e la colonna del martirio. Questo è il racconto della maestra Rosaria Alterio. Andiamo infine sulla pagina di Termoli. I ragazzi speciali sono i veri protagonisti dell'alberghiero. Si è concluso ieri al Federico di Svevia il concorso nazionale alla presenza del governatore Roberti e del direttore dell'ufficio scolastico regionale Chimisso. In alto il nuovo decreto mina il comparto della pesca. Critica severa da parte di Domenico Guidotti di Conf Cooperative. Poi all'Arena del Mare ospiti Persia, Perroni e Hugel. Spazio anche a Termolese. Marc Di Meo e poi Termoli, XIII secolo, rievocazione medievale a cura della Proloco. Bene, con la pagina di Termoli chiudiamo primo piano. Chiudiamo dunque le notizie regionali per spostarci sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera titola Europa, scontro sui diritti. L'Italia non firma la dichiarazione dell'Unione Europea pro-LGBT. Schlein dice rabbia e vergogna, la giornata contro l'omofobia. Mattarella dice basta discriminazioni, non bisogna rassegnarsi alla brutalità. Di spalla Gaza, la ragazza simbolo, la vedete nella foto, trovati i tre corpi di altri tre ostaggi. C'è Shani Louk, rapita il 7 di ottobre. Ancora il figlio di Spinelli e il verbale su Toti, il giallo della parola, gli ispettori di Salvini al porto. E poi a centropagina la fotonotizia dedicata a Franco Di Mare. In tv disse o il cancro, le missioni da inviato Rai, poi la malattia e il caso Amianto. Andiamo ora sulla Repubblica che apre sulla Tangentopoli Ligure. Toti, scontro con i giudici, si apre un nuovo fronte con il racconto di Spinelli Junior al GIP. Il governatore faceva sceneggiate, pretendeva fondi illeciti, ma gli avvocati, errore, ha detto leciti. La procura sull'interrogatorio del presidente, quando sentirlo lo stabilisce il PM. E poi dal condono allo sport e corsa ai decreti, il colle pronto. Allo stop, a centropagina, diritti LGBTQ, l'Italia non firma il patto europeo. E poi ancora la morte di Franco Di Mare, ucciso dall'Amianto, ha lottato con la Rai. Andiamo ora su il fatto quotidiano. Putin spiazza la Nato, trattare sull'Ucraina, piano con Pechino per ripartire dai negoziati di Istanbul 2022. Kiev risponde no, lo zar rilancia i patti post-invasione fatti saltare da Johnson e in pallina il vertice in Svizzera. Zelensky rifiuta, Zitti, Stati Uniti e Unione Europea. E poi il reportage dalla linea del fronte, viaggio a Kharkiv fra i contadini che sfamarono l'URSS e che oggi sono sfollati e senza più niente. In alto, Giomi dell'Agicom sul duello da Vespa serviva più severità. Mazzetti, il conduttore, ha riesumato la Rai di B. Andiamo avanti. Il sole 24 ore dai bonus 2 miliardi di farsi crediti nelle mani delle cosche mafiose. Questa la stima dell'antimafia, cessioni illecite di bonus edilizzi con la complicità anche di professionisti. Truffe che finanziano traffici di droga con risorse sottratte. Allo Stato e poi zona economica speciale per il Sud, sbloccati incentivi da 1,8 miliardi. Firmato il decreto, dal 12 giugno al 12 luglio vanno comunicate le spese sostenute dal 1 gennaio. A centro pagina, borsa, ecco i settori promettenti. E poi questa fotonotizia, la borsa di Londra che cerca il rilancio dopo la Brexit 2016. Il listino è scivolato al 21esimo posto nel mondo. In alto l'Italia e altri 12 paesi a Israele, fuori da Rafa, duri scontri a Gaza, distrutte dozzine di case nel nord della striscia. E poi le reportage in Georgia, i giovani a capo delle proteste contro la russificazione. Poi per il voto del 2023, legge elettorale, la Corte Europea dei diritti umani ammette il ricorso. Il mattino di Napoli, Sud, basta lamentazioni, messaggio forte e defitto. Le risorse ci sono, va evitata la polverizzazione della spesa. De Luca dice, bruciato un anno, sui fondi di coesione è arrivato il momento di fermare. Quindi il cambio di paradigma da Sorrento, confermata la centralità del mezzogiorno nel Mediterraneo allargato. E poi c'è il focus geopolitico a cura di Antonino Pane. L'Europa faccia il suo piano Mattei. Andiamo avanti, ci spostiamo ora sulla stampa di Torino. Il titolo Unione Europea per i diritti arcobaleno, no d'Italia e paesi dell'est. Veto di Roccella, Mattagliani dice no in prima linea contro le discriminazioni. Firmata la dichiarazione a favore della comunità LGBT, il governo si allinea però con l'Ungheria. E poi l'economia, allarme debito pubblico, Roma peggio di Atene. Il governo studia nuove tasse in autunno. E poi la guerra e l'antisemitismo. Qui c'è questa fotonotizia, sinagoga attaccata, paura in Francia, a Gaza. Li vedete nella foto, recuperati i corpi di tre ostaggi. A centro pagina, generazione Fast Sport. Lancini dice copiano la vita social dei genitori. I ragazzi non guardano più le gare intere, meglio gli highlights. Andiamo avanti, siamo ora su Avenire, che titola La pace di tutti i giorni. Da ieri a Verona il confronto sulle vie possibili di riconciliazione. A tutti i livelli, oggi il manifesto sarà presentato al Papa. E poi Putin per la tregua olimpica. E non vogliamo Kharkiv al vertice con Xi, la proposta francese. La Cina, conferenza dopo Lucerna. Andiamo avanti, siamo ora su Il Giornale. Il titolo d'apertura, comizi elettorali, questo a centro pagina, allarme attentati, allerta del Viminale. Dopo il caso slovacco si temono altri lupi solitari, Europa nel mirino. Quindi massima attenzione da parte dell'intelligence e delle forze dell'ordine. Per la sicurezza degli incontri elettorali, dopo il grave ferimento del premier slovacco Robert Fico. Non ci sono allarmi specifici, spiega il Viminale, ma la minaccia dei lupi solitari. Un clima tossico e pericoloso che si sta allargando in vista delle europee. In alto, svolta in Vaticano, troppi santoni, stretta del Papa sulle apparizioni. Solo il pantefice potrà pronunciarsi in via eccezionale, ma alla fede non servono le prove. Poi Covid, flop totale, Fontana, da IPM, pesca, strascico, tutte archiviate. Quindi finite nel nulla le inchieste sul Covid. Il governatore della Lombardia, Tilio Fontana, attacca una giustizia del genere. Non è più accettabile ancora. Centro pagina il ministro Tajani, la Russia sogna l'Unione Europea in frantumi. Questa è anche una lotta psicologica. Ancora contromisure alle sanzioni dell'Unione Europea. Mosca Rapina, Unicredit, sequestrato mezzo miliardo. Andiamo ora su il manifesto sotto un ponte. Il titolo. Manca il progetto definitivo, ma la macchina degli espropri è in moto. Cittadini e comitati oggi in piazza a Villa San Giovanni per salvare la casa e la vita delle comunità da un grande affare destinato però a rimanere incompiuto. Ancora il grande blef, quei costi sociali che sono persone, poi la legge elettorale, il rosuatellum a processo alla Corte Europea. Ancora diritti LGBTQ, l'Italia non firma, la dichiarazione dell'Unione Europea. Poi c'è una notizia sul clima che riguarda quello che sta accadendo appunto in questi giorni al nord Italia. Veneto sommerso da acqua e cemento. Ancora porti spagnoli chiusi alle armi israeliane. Quindi Madrid rifiuta l'attracco alla prima nave e annuncia lo faremo con tutte. Andiamo a leggere ora Libero. L'ultima follia anti Meloni. Vogliono annullare il voto. Un ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Mette in discussione le elezioni politiche del 2022. La sinistra già festeggia e ordina fermate il premierato. E poi elezioni sul fisco. L'Europa impari dagli Stati Uniti a tagliare le tasse. A centro pagina, Conte nel pallone. Da premier a giocogliere, Giuseppi palleggia nello spot. Le risate poi sui social. Ancora la procura che tiene Toti sulla graticola. Il PM decideranno quando e se interrogarli. Ancora all'interno troverete queste altre notizie. L'addio a Franco Di Mare, il volto della RAI. E poi l'operaio 42enne denunciato a Rovigo, preso Fleximan, distruttore degli autovelox. E poi lo sport con l'esonero immediato dopo la Coppa Italia. La Juventus mette alla porta Allegri. A proposito di Allegri, andiamo a leggere appunto il titolo della Gazzetta dello Sport. Fuori, tra Allegri, la Juve e la fine più brutta. Pugno duro della società, comportamenti non compatibili. Lunedì con Montenero. In alto invece c'è l'Inter, Zang sul filo, Hoa Tri pronto a prendere il club, il fondo Pimco si allontana, l'attuale finanziatore in agguato. Bene, la nostra rassegna termina qui. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi rimando all'appuntamento delle 13.30 per il nostro telegiornale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Benvenuti all'oroscopo di oggi, sabato 18 maggio. Ariete, in questo weekend potreste dover affrontare brutti litigi. Sul lavoro riuscirete a trovare una nuova fonte di guadagno. Toro, giornata che vi vede forti e pronti ad affrontare qualsiasi tipo di prova. Sul lavoro dovete cercare di far vedere a colleghi e superiori di meritare il vostro ruolo. Gemelli, in amore cercate di scegliere persone che ricambiano i vostri sentimenti. E sul lavoro attenzione, perché oggi c'è qualche difficoltà. Cancro, arrivano nuove emozioni per voi in questa giornata che vi vede particolarmente aperti con gli altri. Torna la voglia di amare anche per i single del segno. Leone, giornata un po' pesante dal punto di vista lavorativo, con tanti impegni e un bel po' di stress accumulato da dover gestire. In amore c'è un po' di caos. Vergine, bello questo giorno in cui l'energia è molto forte. In amore c'è solo qualche compromesso da accettare e sul lavoro molto presto risolverete qualsiasi tipo di problema. Bilancia, non fatevi affliggere dalle discussioni perché oggi le cose iniziano ad andare meglio in amore. Anche il lavoro vi vedrà più positivi e pronti a dare di più. Scorpione, non chiudetevi in casa perché le occasioni di incontrare una persona speciale oggi saranno molte. Sul lavoro attenzione solo a Giove che porta cambiamenti. Sagittario, questo non è ancora il momento migliore per i sentimenti. Bisognerà aspettare giugno per iniziare a vedere qualche miglioramento in amore. Sul lavoro è l'ora di rimettersi in gioco. Capricorno, in amore c'è ancora qualche fastidio o un bel po' di lontananza con il partner. Dovete cercare situazioni più stabili. Acquario, questa giornata porta qualche dubbio d'amore e anche incertezze dal punto di vista economico. Fate attenzione. Pesci, giorno buono per l'amore anche se domani sarà la giornata migliore. Siete in un periodo di grande creatività quindi sfruttatela al massimo sul lavoro.